E ora passerei la parola ad Anne Lestrat, già vice sindaca di Parigi, presidente di Eau de Paris. Abbiamo avuto modo diverse volte di confrontarci e interloquire e gentilmente si è sempre resa disponibile a tutte le nostre richieste, venendo anche diverse volte in Italia, per cui gliene siamo eternamente grati, perché Parigi per noi è stata una spinta enorme durante la campagna referendaria. And now I would like to give the floor to the deputy mayor of Paris, Anne Lestrat, and she's also the president of the Association Eau de Paris. She has always been available and she has always been involved and supportive. And Anne, we would like you to remember that for us Paris had been a sort of lighthouse during our campaign. So thank you for your contribution. Crediamo che quegli anni, il 2010-2011, siano stati anni per diversi motivi, per la ripubblicizzazione di Parigi, per la risoluzione generale delle Nazioni Unite, per quello che è avvenuto in Italia, degli anni in cui una parte istituzionale e anche dei movimenti sociali sono riusciti a far emergere il tema dell'acqua al centro del dibattito pubblico nazionale, ma anche direi globale. In, in those years, and I'm referring to 2010-2011, those were special years during which, probably because of the remunicipalization, thanks to the UN resolution, but also to our active participation, we were able to put water issues as a central debate. E tu hai avuto un ruolo da protagonista in, diciamo, in questo percorso, per cui quello che ti voglieremmo chiedere è appunto raccontare qual è stata la strada, il percorso e le ragioni che hanno portato anche alla ripubblicizzazione e quindi come si è costruito quel processo e che risultati ha dato. And you were an absolute protagonist of that battle and you had a very important role in those days, so we would like to ask you what you did, what was the pathway and what was the reason that both brought to the remunicipalization and what is the outcome you have reached. So you have the floor. Okay, thank you very much. Thank you, Paolo. And thank you very much. I'm very happy to be here with you, even remotely. And congratulations for still being involved in the struggle for public water in Torino, but also in Italy. So, as you mentioned, from 2001 until 2014, I was in charge of the water policy in Paris and a new water policy was implemented at that time. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Paolo. Thank you very much. Thank you. I am very happy to be here to participate in this meeting, even if from away. I would like to compliment myself with you for all the efforts that have made you have made delle politiche idriche a Parigi quando mi occupavo di quando ero a carico di quell'ambito. E quello che abbiamo fatto è stato riorganizzare le politiche idriche della città. Questo però non solo a livello organizzativo ma anche dal punto di vista delle prospettive, dell'approccio. Volevamo avere un approccio integrato, globale e che tenesse conto di tutti gli attori coinvolti. So first of all we decided to take back the control of the water system by creating a new publicly owned company, Eau de Paris, as you know. And this ambitious reforme was guided by a strong political belief that water needs to be managed as a common good and not to make profits. But also by the goal to set up a new model for the public local services. And you mentioned that point, Paolo, and I think it's very important to focus on that. We wanted to not only lead a successful remunicipalization, but also to demonstrate that we could operate in a more efficient and sustainable way with more transparency, solidarity and sustainability and social environmental sustainability and with a publicly owned company than with the former private companies. Abbiamo deciso di riprendere in mano il controllo del sistema idrico della città creando una società completamente pubblica, Eau de Paris, come sapete. Si è trattato di un programma di riforme ambizioso e questo ha richiesto una forte volontà politica. per esempio, avevamo la convinzione che l'acqua dovesse essere gestita come un bene pubblico, non come una fonte di guadagno e volevamo anche dare un nuovo modello per i servizi pubblici. Paolo, tu hai menzionato questo aspetto, io credo sia molto importante concentrarsi su questo punto perché il nostro obiettivo non era solo quello di ripubblicizzare ma anche quello di dimostrare che potevamo lavorare in modo più efficiente, più sostenibile garantendo una maggiore trasparenza, solidarietà e sostenibilità grazie a un'impresa pubblica e non ad un'impresa privata. So, on the 1st of January 2010, Eau de Paris became totally operational and took control of the Parisian Water Service, so from the catchment through the billing on the end consumer service. And one of the first important changes we decided to implement is related to the governance framework with the new governance structures. Quindi, il 1st of January 2010, Eau de Paris è diventata totalmente operativa e ci siamo così riappropriati del servizio dell'acqua a Parigi in tutto il percorso, dalla raccolta dell'acqua fino alla fatturazione agli utenti finali. e uno dei cambiamenti più importanti ha a che vedere con il cambiamento della struttura, della conduzione, della direzione del servizio idrico. So, the political will was to involve all the stakeholders of the water sector and to introduce transparency and check and balance system. So, the municipality of Paris as a genuine organising authority fully plays its role by defining the objectives and the policy framework and Eau de Paris has opted for a board of directors open to civil society and to employees representative as well and all have the same right to vote. Quindi, come si diceva, la volontà politica nostra era quella di coinvolgere tutti gli attori del settore dell'acqua. Volevamo introdurre trasparenza, integrità e anche un sistema di pesi e contrappesi. Il Comune di Parigi, quindi, è stata l'autorità che ha organizzato tutto questo e che ha definito gli obiettivi e le strutture politiche. Una scelta importante è stata quella di riunire nel Consiglio di amministrazione anche membri appartenenti alla società civile, anche rappresentanti dei lavoratori e tutti, tutti i membri del Consiglio di amministrazione hanno lo stesso diritto di voto. Sì, e hanno anche un accesso completo a tutte le informazioni, le dati e i reporti e così via. Quindi, tutti i membri hanno accesso alle informazioni, ai dati, a tutto quello che è disponibile. Quindi, possono avere tutte le informazioni necessarie a prendere delle decisioni. Questo è proprio quello che sta alla base della nuova governance di Eau de Paris. E questo è proprio il nostro intento, cioè riuscire a riunire membri della società civile, datori di lavoro e guardare al futuro, avere una strategia di lungo termine. E in questo nuovo modello, abbiamo deciso di creare un'innovabile partecipazione di democratico, l'Observatoire Parisien de Lourde, l'Observatoire Parisiano di Lourde. L'Observatoire di Lourde, l'Observatoire di Lourde, l'Observatoire di Lourde. Quindi, in questo contesto è stato creato anche l'Observatorio Parigino dell'Acqua. È un ente assolutamente creato proprio per assicurare la democrazia partecipativa ed è composto da quattro gruppi di esperti. Qualsiasi persona di Parigi che voglia entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione può diventare un membro. Questi membri non sono scelti a livello politico o amministrativo, ma sono eletti da altre persone come loro, senza incarichi particolari. È un platt di consultorio, dove i cittadini possono rinforzare e transmitire le richieste a la comunità riguardo a livello dell'acqua riguardo a livello dell'acqua. L'Observatoire assiste il governo di definire e implementare la sua polizia e sanità. E anche se non è un'obriso di un platt di consultorio, ha reale funzioni di lavoro di riscaldi. E, per esempio, la deliberazione riguardo la polizia di l'acqua riguardo a la Città di Città di Città di Città di Città di Città deve essere debati nel nostro observatorio prima di essere examinati da Città. e ovviamente può ottenere l'accesso di tutte le informazioni, le informazioni e le informazioni riguardo ai problemi di acqua in Parisi. Anche se è un organo consultivo, in realtà assiste anche la giunta comunale e fa da ente di controllo per l'erogazione del servizio, fa anche da ente consultivo e ogni decisione che viene presa prima viene dibattuta e anche esaminata sia dalla giunta comunale che dall'osservatorio. Un'altra grande issue è l'accessibilità dell'accessibilità e abbiamo chiesto un sistema sociale per l'accessibilità per l'accessibilità dell'accessibilità dell'accessibilità. La questione dell'accessibilità all'acqua è una questione fondamentale e quindi per noi era anche importante dal punto di vista sociale e prima di creare Eau de Paris abbiamo anche discusso di abbassare il prezzo della bolletta per l'acqua e siamo riusciti a ridurre questo prezzo dell'8%. Quindi i prezzi sono assolutamente accessibili e abbiamo anche contribuito a un fondo per l'edilizia popolare. Si, e questo fondamentale è per l'accessibilità dell'accessibilità 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 dell'accessibilità. Quindi adesso abbiamo una piccola prezzi in Paris, una piccola prezzi in Paris, molto affordable e molto controllabile. In fact, abbiamo una delle più piccole prezzi in Francia. La corsa è stata stata prescrita in casa nei batteri, e anche per le squad. Ci sono molto importante per me, anche per avere delle quali sociali misure per i bannici o la squadra e gli bannici. In questo tema, abbiamo anche cresciuto un'accessibilità di un'accessibilità, un programma per i bannici, e per esempio aumentiamo le fonte pubbliche in Parigi. Quindi stanziamo anche fondi per aiutare le persone ad avere una casa e a poter pagare le loro bollette per l'acqua. Abbiamo avviato anche un programma di azione per garantire alle persone senza tetto di avere accesso all'acqua, grazie alla creazione e alla diffusione di fontane nella città. Inoltre, l'Università di Paris e l'Aude-Paris ha deciso di impostare una polizia sostenibile e resiliente per l'acqua per l'acqua per l'acqua. E questa polizia ha avuto la risposta di affrontare le problemi che stiamo facevano, e per esempio le conseguenze della città, la perdita di biodiversità e la polluzione sono molto impactanti per le risorse di acqua. Quindi la città di Parigi ha deciso di mettere in atto delle politiche sostenibili e resilienti. Questo per consentire anche di affrontare le conseguenze del cambiamento climatico, per l'inquinamento, che sono problemi molto gravi, soprattutto per l'acqua. So, I'll give you some emblematici measures to deal with the long-term perspective e integrare in quanto riguarda gli ambientali, per esempio, l'Aude-Paris ha deciso di fare molti mesi mesi e anche per l'acqua per l'acqua per l'acqua per l'acqua per l'acqua per l'acqua. E' la pubblica operazione con i farmaci per contribuire a più responsabile di acqua, per aiutare le pratiche di farmi per l'acqua per l'acqua per l'acqua per l'acqua. Ora vi racconterò di qualche misura che ritengo esemplare che abbiamo preso a Parigi, che Eau de Paris ha preso, proprio per affrontare queste sfide. Abbiamo cercato, infatti, di incoraggiare la transizione verso pratiche agroecologiche, proprio per preservare la qualità dell'acqua. E abbiamo anche cercato di aiutare gli agricoltori affinché potessero mettere in atto un modello più sostenibile e agroecologico. Abbiamo quindi acquistato dei terreni e li abbiamo dati, li abbiamo resi disponibili agli agricoltori attraverso delle locazioni. e, una volta fatto questo, abbiamo fatto sì che venissero usati meno sostanze chimiche, meno pesticidi, eccetera, e che ci fosse una collaborazione con gli attori locali. Quindi, la pubblica compagni è anche dedicata a riducing l'economia ecologica, l'economia generata da tutte le loro operazioni e attività. Quindi, iniziamo un'ambito di climatica e energetica, iniziamo numerosi climatica, non ho abbastanza di tempo per sviluppare, ma abbiamo iniziato molti operazioni di energia e energetica, molto innovativamente, per affrontare il cambiamento climatica in Paris e per usare l'acqua, l'acqua e l'energia. Ci siamo impegnati anche a ridurre l'impronta ecologica provocata dalle attività legate alla produzione e distribuzione dell'acqua e abbiamo messo in atto un piano proprio per affrontare le questioni climatiche. abbiamo cercato di attuare attività innovative e anche di creare delle reti per affrontare il tema sia dal punto di vista dell'acqua che dal punto di vista dell'energia elettrica. Non ho molto tempo per sviluppare ulteriormente questi punti, però potremo sicuramente parlarne in seguito. quindi, in summary, 11 anni, non 10, ma ora più di 10, 11 anni dopo la sua creazione, il successo di Eau de Paris è non più contestato, e anche per l'occhiere, anche per l'occhiere, l'occhiere in 2010. quindi è molto interessante che anche dopo 10 anni, durante la campagna di elezioni, non c'è più, non c'è più ora, non c'è più persone, non c'è più politici, che vuole tornare a un modello di privatizzazione. Quindi, dopo 11 anni possiamo assolutamente dire che questo modello pubblico della gestione dell'acqua nessuno può mettere in discussione questo modello e la prova è che, persino quando ci sono i dibattiti elettorali, nessun politico parla più di tornare all'acqua privata, alla gestione privata dell'acqua. Nessuno lo propone nel proprio programma politico. E una ragione è che Eau de Paris, con la sua nuova pubblica e con la sua nuova polizia, mostra che può essere molto innovativa in tutti i mercati e capire completamente la sua obbligazione di servizio pubblico. E una ragione è che Eau de Paris ha dimostrato, grazie a questa gestione pubblica, grazie a queste nuove politiche introdotte, di essere assolutamente capace di innovarsi e di avere assolutamente realizzato tutti gli obblighi del servizio pubblico. Quindi, per concludere, stiamo facevano molto difficili perché della pandemia, ovviamente, ma non solo, ma più strutturale perché del cambiamento climatico, l'acqua di biodiversità, il rischio di inequalities e delle nuove brezze a la democrazia, anche nei nostri europei. e, in mio punto di vista, come possiamo adressare questi problemi? Una cosa è di raffermare la necessità di assurare la provisione di essenziali e servizi per l'umanità. E per questo progetto, per questo progetto, l'acqua deve essere mangiato non come comodità, ma come come comune. quindi i servizi pubblici, democratici e sostenibili sono il futuro. Grazie. I tempi che stiamo vivendo sono particolarmente difficili per la pandemia, ma ci sono anche problemi più strutturali e anche più antichi, il cambiamento climatico, l'aumento delle disuguaglianze e anche le minacce alla democrazia, anche le nuove minacce e anche nei paesi europei. quindi dal mio punto di vista un modo per affrontare queste importanti sfide è quello di riaffermare la necessità di garantire l'approvvigionamento di beni e servizi pubblici essenziali a tutta l'umanità. Ed è per questo che il modo in cui noi gestiamo l'acqua non è vedendo l'acqua come una merce, come una fonte di guadagno, ma come un bene pubblico. E credo fortemente che il servizio pubblico, la democrazia e i servizi sostenibili e partecipativi siano il futuro. Grazie. Grazie Anne Lestrat per questo approfondito contributo intervento anche appassionato visto che immagino si senta particolarmente che sia stati protagonisti di tutto questo percorso. Grazie Anne per questo molto bellissimo e anche un passione rispettato perché immagino che sei una delle protagoniste di questo movimento e di questo outcome.